Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube, ancora turno di review del Foodbird dei Team 2 e dopo aver visto Dybala, Firmino e Pagetà, oggi andiamo a guardare invece come rendono De Vrij, Alves e Fegir altri dei giocatori molto interessanti di budget più economico che possono trovare spazio all'interno dei nostri team Partiamo dal terzino destro del Barcellona, il quale non mi ha fatto impazzire, l'ho provato in vari ruoli vedete qui provato da Mediano come faccia questo intervento, molto goffo e non recuperi il pallone qui da terzino ma anche posizione un po' da esterno con questo speed boost non mi ha convinto mi sembra molto pesante pad alla mano, poi qui per carità due buone intercettazioni ma poco altro mi sembra un po' passivo in mezzo al campo Dani Alves, cosa che invece non è assolutamente questo De Vrij che per me è veramente un giocatore incredibile, sia per poter difendere dentro l'area ma soprattutto per poter fare anche delle ottime uscite guardate qui come la va a recuperare altissimo e prima avete visto il recupero totalmente automatico io neanche lo stavo controllando e ve ne accorgerete dal segnalino guardate qui come è anche reattivissimo con l'L2, praticamente si teletrasporta in base a quello che è il movimento dell'avversario qui allunga questa gamba e prende metri fino ad arrivare addosso appunto al giocatore che gli arrivava incontro qui addirittura si tiene benissimo l'avversario in campo aperto ancora una volta qui contro Di Natale fa questo scatto a teletrasportarsi e qui si tiene due volte addirittura Mbappé dopo aver perso palla la recupera molto bene passiamo a Feghiri invece, il quale tolto questo tiro con il verde che si va ad insaccare e questo bello spunto qui sull'esterno onestamente non mi ha convinto troppo per quello che costa perché da punta si rivela, poi vedrete a breve, un po' troppo inconsistente nelle sue conclusioni mentre da esterno si per carità va via anche un buono speed boost però costa tanto per metterlo in quel ruolo lì guardate qua, Vinicius la palla viene ceduta al giocatore francese che qui mette diciamo in atto tutte quelle che sono le sue caratteristiche migliori e riesce a finalizzare, qui fa anche un ottimo pallonetto però questo per quanto riguarda i lasi positivi e adesso arriva una galleria di orrori perché guardate qui quante volte arriva davanti la porta e o sbaglia o si fa ipnotizzare dal portiere in maniera abbastanza coffa guardate qui, queste sono tutte conclusioni che insomma dovrebbero andare a prendere il bersaglio grosso anche questo tiro a giro addirittura non prende neanche la porta ancora una volta qui dentro l'aria tira addosso al portiere e poi colpisce pure il compagno onestamente non mi ha dato questo senso di sicurezza Feghir bene ragazzi, quindi dopo averli provati Dani Alves, Feghir e De Vrij eccoci alle conclusioni partiamo dal terzino destro del Barcellona che come potete vedere dalle clip anche insomma non mi sembra questo giocatore game changer devastante per quello che costa almeno perché adesso parliamo di un giocatore da quasi un milione è vero che è alto normale è vero che è a 5 di skill e 5 di vede debole è vero che è un giocatore che comunque ha sempre il suo fascino però bisogna andarlo a valutare per bene perché questo 91 di accelerazione e questo 93 di velocità scatto onestamente non mi sembrano tradotti poi in effetti in un giocatore così esplosivo palla al piede anzi avete visto come lo speed boost risulti abbastanza frenato non è uno di quegli speed boost belli rapidi come piacciono a noi poi per quanto riguarda per carità passaggi assolutamente non male quello che però mi ha fatto storcere di più il naso sono le statistiche relative al dribbling e alla difesa per due motivi innanzitutto per quanto riguarda il dribbling abbiamo 91 di agilità 95 di equilibrio e 88 di reattività che è mixato anche a un 75 di forza che non è un attributo che appesantisce la carta eppure sto Dani Alves sembra che qualcuno lo stia proprio trattenendo non gliela fa come se si portasse il carico del mondo sulle spalle non riesce è pesante cioè proprio ma come se non avesse digerito ancora il cenone di Natale non gliela fa quindi l'ho provato terzino l'ho provato mediano mediano tra l'altro quel 90 di intercettazione boh pare 2 cioè non è che intercetta queste grandi palle o almeno non è che intercetta in più rispetto a un giocatore che costa meno cioè tu prendi un giocatore di questo tipo dici cavolo questo me la deve carriare questo fa tutto tranne che carriare un centrocampo o una linea difensiva dove vi ripeto soprattutto la mancanza di speed boost lì quando lo giocate laterale basso si fa sentire perché non vi permette di poter rilanciare l'azione con rapidità quindi io mi sento di sconsigliarvelo soprattutto considerato il prezzo magari dovesse calare non dico alla metà ma già sui 600k allora ne possiamo riparlare ma al momento veramente mi sembra un giocatore che all'interno della partita non incide questo è penso il riassunto perfetto per Dani Alves passivo De Vrij invece piacevolissima sorpresa provato a lungo vedete 11 partite questo costa praticamente sui 200k se volete fare la sfida quindi è un prezzo accessibilissimo c'ha 5 di skill e 4 di piede debole che vabbè a poco servono è un metro e 89 però questo 5 skill e 4 di piede debole contribuisce probabilmente ad aumentarne l'agilità in più c'ha anche un ottimo reattività 91 e cosa vuol dire questo? che con l'L2 quando dovete cambiare direzione col giocatore bello De Vrij lo fa benissimo infatti su diversi attaccanti tipo Mbappé Butraghenio eccetera ha reagito alla perfezione quindi mi... questo mi è piaciuto poi le stats difensive si sentono perché è molto preciso nei contrasti intercetta potete uscire bene manualmente quando uscite alti per recuperare il pallone in pressing ha degli ottimi interventi automatici dentro l'aria autoblock l'aggressività 83 non è un enorme problema perché sembra averne di più anche quando lo andate a mandare in raddoppio fa quegli interventi automatici tipici di giocatori che appunto hanno anche parametri più alti di aggressività forza 90 bello prepotente resistenza 86 c'è anche dei discreti passaggi che comunque col 4 di piede debole non fanno mai male quando c'è tempo di impostare l'azione quindi devo dire che De Vrij mi è piaciuto veramente tanto lo consiglio secondo me si va a piazzare sul podio dei difensori di Serie A forse a condividere anche la prima piazza con Coulibaly scalzato un po' Cordoba che di questi tempi con il meta che è voluto un po' sulle palle alte iniziava a fare un po' un po' di fatica quindi promossissimo De Vrij vi dà anche la possibilità magari di fare dei link esotici Kuttingberg, Gravenberg eccetera fantastico mentre concludiamo il video con Nabil Fekir allora su cui ne abbiamo da parlare perché Fekir io l'ho provato da esterno e da seconda punta questo c'ha 5 di skill e 4 di piede debole quindi praticamente è una specie di pusca prime moments a livello tecnico non di rendimento assolutamente 6 partite 5 golle e 5 assist che però non mi fanno dare un giudizio totalmente positivo perché giocatore che costa 600.000 crediti sono 600.000 crediti pari a un milione e due del vecchio conio quindi costa perché costa la velocità si sente soprattutto ha un buono speed boost quindi per carità su questo siamo d'accordo però a me non sembra che ci sia questa grandissima differenza con la versione precedente quella 87 lì che era diventata 88 se non dico stupidate potrei potrei sbagliarmi potenza tiro e finalizzazione mi sembra un po' un parametro altino perché non è che andava così a finalizzare in maniera costante anzi soprattutto quando la palla gli capitava sul destro quel 4 di piede debole mi sembrava un po' un 3 e alle volte capitava che anche davanti alla porta non la buttava dentro quindi mi da punta soprattutto non mi ha dato sicurezza quando l'ho giocato poi per carità è agile perché è agile però è un'agilità che non è un'agilità così agile nel senso che non è un agile come un Messi non è agile come un Beyheader nonostante non sia un colosso perché è appesantito dal body type e anche dalla forza quindi alterna dei momenti in cui magari preso dal ritmo si riesce a muovere abbastanza bene e altri momenti in cui invece si è ritrovato a controllare il pallone partendo da fermo fa una fatica in mano sembra che sta spostando non lo so un camion per girarsi poi per carità ha anche degli ottimi passaggi quindi vi dico può essere giocato anche da COC in posizione centrale io non l'ho fatto perché ho preferito testarlo più in quei ruoli là dove secondo me poteva essere incisivo maggiormente una discreta reattività palla al piede un ottimo controllo palla quello che però mi fa storcere il naso ulteriormente è il prezzo perché secondo me 600.000 crediti è un po' tanto è un prezzo influenzato comunque dall'ibridabilità alta che ha visto campionato visto nazionalità quindi non mi sento di bocciarlo ovviamente vi ripeto è un buon giocatore però starei attento a farci delle valutazioni soprattutto in base a quella che è la zona dove volete metterlo in campo secondo me se vi serve un esterno allora sì perché sfruttate effettivamente speed boost e tutto quanto però se vi serve una punta onestamente virerei su attaccanti che vi danno una maggiore garanzia quando si tratta di finalizzare anche per questa review è tutto raga fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate quali giocatori tra questi siete intenzionati a provare o se l'avete già provati in descrizione vi ricordo i link dei vari partners e soprattutto della piattaforma viola dove sono live ogni giorno a me non resta altro che augurarvi una buona giornata a Dona Riberoski ciao